È una giornata molto importante per l'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Si celebrano oggi le prime lauree dei nostri studenti in Scienza e la Formazione Primaria. Un percorso di 5 anni, nuovo, che dà la possibilità ai nostri giovani di studiare nella propria città, nel proprio territorio e quindi da oggi di essere libere e liberi, di poter esercitare la loro professione, maestre e maestri laureati alla Mediterranea di Reggio Calabria. Oggi è un giorno di festa per noi perché si conclude il primo ciclo quinquennale di Scienze della Formazione Primaria. Avremo i nostri primi 25 laureati, la prova finale è una prova abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e oggi auguriamo ai nostri laureanti di trovare la propria strada nell'insegnamento e di assumere il ruolo con grande responsabilità educativa. Grazie a tutti!